Cantiere aperto e otto mesi stimati per veder sorgere la nuova scuola dell'infanzia di Villa Vomano, ulteriore tassello verso la realizzazione del polo scolastico dell'istituto comprensivo Falcone Borsellino, dalla sezione primavera fino alla secondaria di primo grado. Per giungere all'obiettivo l'amministrazione comunale di Teramo garantisce anche il recupero dell'edificio mai portato a termine che dovrà ospitare la scuola elementare. Il progetto c'è ma vanno trovati i finanziamenti. Lo stimolo arriva dal consigliere comunale di Futuroin Alessandro Di Berardino. Il dubbio rimane nell'edificio a fianco che ha delle problematiche che si porta dietro da tantissimi anni e a oggi non c'è una soluzione perché si parla che si dovrà ultimare però non ci sono delle idee oppure dei fondi già trovati. Io mi auguro che quella struttura venga al più presto recuperata perché oltre a essere invasa da erbacce di tutto diciamo è anche preda di ratti e serpenti e sappiamo che a fianco c'è un edificio che la scuola media che a Villavomano attualmente opera con gli studenti. Il problema della cura del territorio dalle manutenzioni all'attenzione mancante per le aree verdi resta un nervo scoperto per i residenti della zona. Parlo del territorio come Forcella, Caprafigo, Collecchio, Torre Palomba, Villavomano, molte zone lasciate con erbacci, marciapiedi invasi, ma dalle manutenzioni più stupide a quelle forse più importanti da programmare. Noi ci siamo trovati tutta l'estate con le erbacce alte dove c'erano i serpenti, i serpenti, chi sollecita vicino casa che hanno problematica perché escono e vedono partire un ratto, cioè delle cose assurde che non ci dovrebbero essere nelle frazioni che pagano le tasse come il Comune di Teramo.